ben tornati ragazzi allora come nuovo video scusate electric van 2 è un gioco in flash molto divertente io è da spesso cioè è da quando sono piccolo che ci gioco quindi sa giocarci mentre lui non tanto quindi non fate caso alle cavolate che fa e se ride come un cretino perché non ci ha mai giocato e allora diventa ridere facciamo FW no mettiamo i voti ti faccio provare electric man che è molto divertente partiamo allora faremo 10 minuti a testa no 10 scusate ragazzi 10 minuti a testa se no allora chiamiamolo The Atomic Boy no Atomic Boy Atomic Boy abbiamo fatto anche un canale su Clash of Clans è un canale scusate ragazzi sono un po' scordito Atomic allora ci chiameremo Atom abbiamo fatto un clan su Clash of Clans si chiamate Atomic Boy ok T maiuscola A maiuscola B maiuscola tutto staccato però tutto staccato ha un simbolo bianco con dei puntini rossi quindi iscrivetevi 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 andate andate unite via clan ok donate io sto per fare il deposito di lisir nero e farò la caserma donerò domatori bene adesso possiamo partire partite che almeno ci sono i livelli più facili poi ok ragazzi ok ragazzi ehhh ehhh ma non c'è un po' ma non c'è uno po' ok bene insomma c'è ecco ecco E' una squadra dei mega cazzotti, non avevi detto? Ah, buona vecchia Eh, come è nato? Ecco, questi giochi comunque è la preparazione della... Oh, che baldoa! Le sto facendo perchè entro non so giocare, però non farà un livello di più cento Oh, ragazzi, guarda, ma sono da Etiki Ecco, guardate, ragazzi, cosa riesco a fare Sono EMPRO! Come si fa a non farla in corsa? Ok, partiamo! Replica Aspetta! Cos'è cosa mi fai riflessi? No, Replica, sei round 1 Si, è round 1 Sì E questo è il nomino? Ah, ecco lui! Oh, hai visto qualcuno volare? Wow! 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 Sì! Ho fatto la corsa! Ma Cristo! Sì! 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 Sì, Sì! Don, Sì! No, non potrò perdere! Vedremo tutta la descrizione, quindi... Oh, l'ha fatto fuori! Come può essere? È un regolo bianco, ma come vedete? Come ne gottemici? Ok, vediamo con una migra corso galassica, quindi vi farò più solo questa mossa. Diciamo un attimo una mica dedicata a te e non vissiare molto barbone. No, non vissiare. Beh, questo è un problema. Come fate scivolare? Vabbè, è meglio, posso dire che non le ho lasciate. Aiutami, stai seguendo! E' un'altra cosa che si sentita. E' da Loris, quello di... Sì, non c'è che non è, tìo. C'è una fantasia! Venga, è il vero bianco per farlo! Sì! Yes! Oh no! Buonai! Chi... Chi... Rind... Guarda! Chi... Rind... Sì, sono un po' l'artier. Sì, ma... Ah! Nooo! Allora, in maniera un pochi di video, io mi chiedo che bisogna andare a vedere da qui. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ho scusato da qui, non lo so. Abbiamo messo in maniera un po' pochi, e non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. E allora, davvero, c'è sempre a cambiare, non solo da mangiare. Proveccata Io sto andando cercando di fare qualcosa di testi E forse non mi stavo facendo un aspetto per i 10 iscritti Per i 10? Celebro per i 10 ma mi sono chiesto che oggi abbiamo appena aperto il canale per fare il video E anche se mi sono andando in tira adesso mi stavo aspettando per i 10 iscritti E qui ci sono un'intera stessa in tutto Scrivetevi 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 Si E' bene che questo secolo vada in pensare oricina in testa, saresto già morto E ora ci si è andato Scrivetevi con l'immiglia in labia ahahahah è proprio che sono pronti da casa per me che sono un etico e perchè si sa è umiliato per le mie mosse di Super Saiyan hai ammasso tre bimbo no 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 mi stanno facendo fuori vai su scusate cerca di riuscire a come se non c'è qui nell'auto stoccato il primo che c'è che non riesce a comprare il giro del mondo in 30 secondi non 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 mmmm ah, scusate super ahah, si è imballato il gioco ahah vieni, riportiamo con le visite di questo gioco troppo voglia, ragazzi allora, vi stiamo spiegando i prossimi video che faremo sarà sabato o forse pure il gioco della prossima settimana comunque dovete stare attenti a guardare che questo qua, vedete, è quello che sapete che abbiamo messo con i posi grigi le braccia grigie i copri...braccia grigie è quello che ha la vita più alta più tante, possiamo dire se non è italiano, è più alta però è quello che resiste di più comunque vedendo che stai spasciando stanno spasciacarrosse quanti sono? ah, un è morto e non c'è la camera, è vero no, non posso marire adesso sì, dark d'orris ha visto ancora Se non lo sapete mettete nei commenti Ah, un'altra cosa rapida Vi stiamo dicendo di Minecraft Faremo... Ah, il 25 marzo, ragazzi, tra 12 giorni Che giorno è oggi? Oggi è il 13 Tra 12 giorni comprerò il cane Lo chiamo Muromargo Ed è un martesimo Lo farò subito vedere appena i video che faremo Quindi... Se la farete aspettare di un settimana? Neanche? Sì, dai che ce l'ho facendo qua, ragazzi Hanno aspettato i nostri video Quindi non si può aspettare Hanno aspettato il nostro canale Prima che si aprisse Per un mille, quindi Ma che cavolo? Non hai preso e si distrugge? No, non è che si distrugge e l'ha schivato Ma che cavolo sono? Questi qua sono i film di Jake Morris No, tu sei... E' un gioco d'orris E chi è? Mamma Jack Morris Jack Morris Jack Morris Jack Morris E lei E lei Ma non stava con... E Bannutelli E... Non è che cavolo, che le pronunci radio con le... Con i giocatori versari Allora, devi tirare i talci, no? Nefus Vai Cambia il tuo spallo, no? Ah... Ti ha il tuo spallo, no? E' mali Fai la vecchia Qua... ... Chi ha il tuo spallo, che sembra! Che ragia, ragazzi Vi faccio peggio Vi faccio peggio Vi faccio cagare più di lui ecco Non viene meno una parola 3 2 Ciao tra le cosci Salva maisa come il piacere e mi piace Allora, che fa l'amore Allora, che fa che fa l'amore Allora, che va un bacerone, che Ragazzi, è impossibile, dovrete più abbatterli, prima ce lo faccio perché stavo giocando No, non lo trova, la prima cosa ti va La duro, la duro Poi tirandoci su un'altra Eh, eh, ma tirandoci su un'altra Ma altro di sé, ok Si fremmo il tempo perché per un minuto di tempo se no vi andiamo No, non ci arrogano Ma tu non dovevi ridere, no? Si, io riducono, non mi sa ridere Sì, io riducono, non mi sa ridere Schiamolo E' un grande cosa che mi vuole, non mi sa ridere Ma tu non ha finito, aiuto Uhuu Sì, io non ho fatto Finiti la musica etica Lo giro finito Ti sembra che ti sta fucinando più altra Oh my god Ok, sembra che sta ballando Avanti prossimo Avanti un altro Avanti un altro Avanti un altro signori Fate la fila Avanti un altro Avanti un altro Fate la fila Ordinati O che ci sono andato Fai la vecchia Che cosa fai? Lo sto caricando per farle la ossa speciale Ah Per la sopra c'è la barra Quella fila che vedete E quello per fare la ossa speciale E quella riesco e la faccio Ecco BOOM BOOM Fatti Può anche giocare su motore Drei Qua Qua c'è un progetto Non gli do Sono due giochini Niedi Si può scendere E' più difficile questo livello Pio meno Ma sono quelle potenti Quelli più che si ha iniziato Ma guardate Il livello Io Sono quelle che presenta che sparano laser dagli occhi e gli possono rifare la vista chi deve, è giocato in Italia ma nessuno fa se la faccia non lo sapevo bene come vuole da piccolo fa era ancora capace a giocare ragazzi non ho avuto la scuola, mi fai giocare con me no, non prendo più video nascosto che cosa? non ho avuto la scuola, non sono in voti noi va bene, dai, sono stato felici che cavolo? c'è che nonna, non sapevo che non lo so mi sapevo fa molto bene a chakra nonna oh no guarda, guarda, so cosa dè? no, non l'ho letto scuola perché sono forti, sparano così, boh no, non sono loro, hanno delle tute bianche come si spara al laser ah, sono questi tossici, tossici, fissi, fissi, fissi o no Sì, ma è stato un po' di più di più... ...eppure... ...eppure faccia di più inoltre. Sto bene, ma... ...pure molto forti, però... ...eppure i tiri proprio, non bisogna proprio na fifty uber. ...fai un cammino parlato con il take a nori. ...fai un prendo solo le take a nori. ...eppure il video mi si accresce, non solo il sudere. ...sì. ...vai, vuoi sparta! Non c'è il tossico, il tossico dipendente. Non c'è il tossico. Come vai? Ci cambieranno ogni volta. Guarda, ma sembra che si stanno cucinando tutti gli scattacani. Scusate, allora, bene. Se non avete mai fatto il treno di un poligono di tiro, fatelo, perché vi divertite un casino. Io non ci sono arrivato, quindi... Io la parola che sto a vedere così mi ragazzi ha un rinculo pazzesco. Ho provato la Desert Eagle e la Fuca. Non mi ricordo che era piccolera. Però la Desert Eagle ha un... Ok. Ok. Belli! Siamo giocando il video. Con le benne sono ogni difficile, sappiamo. Bene, io non so che faccio giocare con il Diff. Faccio. Non trovo bene. Eeeh, benvi c'è che non arrivi. Allora I Sahes Un'attività Sì, c'è dziazza Posca Grazie. Sì. Sto patendo ragazzi, non so come il cavolo già ti ho fatto, però se siete in casa mi chiede Marteo. Mi chiede che ho fatto la Netflix l'altro giorno, ed è stato bellissimo, ho pensato i miei conti, mi chiede un po' di macchia, mi chiede un po' di macchia, cioè io e i fratelli stavamo cercando, disperatamente, cioè si è seduti a mangiare e abbiamo indietro da i miei nasi un uomo, è una roba, e ha lasciato di tutto, portafogli, design, cibo e siamo aones, a IRS, a Sì, la casa si sta battendo. Sì, ciao. Che cosa fare? Che le cattivo. Se. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no non lo sai che di tutto, ok, finiamo avevano entrambi i tuoi contatti del computer, l'immagine parla di qualcosa parlo di... di qualcosa convenzo a farlo mole, ragazzi, c'è calore spoglio di fuoco, ragazzi spoglio di fuoco ci siamo, questa ragazza che vuoi spoglio di un gatti questo è veramente massacrante ragazzi, c'è calore si è calore perchè mi hanno rubato il porcafaglie, ragazzi, il porcafaglie l'hanno rubato perchè l'hanno rubato la scena di la bucafaglia che mi ha calcitato spigirlare ragazzi, c'è calore, mi sta distruggendo tutti mio padre sono pieno di lui ragazzi eccoci ritornati scusateci per l'interruzione che mia mamma non ha seguito il mio consiglio le avevo chiesto di non entrare invece è entrata quindi, allora scusateci comunque per non aver finito il livello non lo finiremo sennò il video esce troppo lungo e se volete che lo finiamo scrivetelo nei commenti mettete almeno 10 mi piace ok? allora, quindi alla fine volevo dirvi iscrivetevi mettete mi piace scrivete dei commenti e ci vediamo alla prossima lasceremo il gioco e il sito dove avremmo preso il gioco in descrizione ok? ciao ciao